Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha ribadito che per fronteggiare l'emergenza coronavirus servono non meno di 200 ventilatori e 100.000 mascherine al mese. Al momento, ha spiegato Emiliano, la Puglia riuscirebbe a gestire 2.000 contagi conclamati, di cui fino a 1.200 in ospedale e poco più di 200 in terapia intensiva. Se i numeri non andassero oltre questi, allora la regione riuscirebbe a far fronte all'emergenza, ha ribadito Emiliano, in alternativa servirebbero sicuramente nuovi investimenti. Il presidente pugliese ha ribadito oggi questo concetto, facendo anche un punto della situazione su quanto richiesto dai sindaci e i prefetti, e cioè l'intervento dell'esercito nelle strade. Non abbiamo bisogno dell'esercito in strada, così facciamo prendere l'infezione pure a loro. E questo il pensiero di Emiliano a proposito della possibilità di impiegare i militari per far rispettare le restrizioni imposte per contenere il coronavirus. Non serve l'esercito per sgombrare una piazzetta da chi beve una birra. Le strade della Puglia sono già deserte. Ovvio che poi coloro i quali non rispettano le norme ci sono sempre. Ma l'esercito in strada, a conclusione Emiliano, evoca brutte cose.